Noi riteniamo che il settore assicurativo abbia un ruolo all'interno del Paese, quello di dare valore sociale alle parole chiave della nostra attività, cioè quello di fare la prevenzione, perché fare prevenzione è sensibilizzare sulla cura, sull'accertamento delle patologie, fare prevenzione significa cercare di formare, informare chi si mette sulla strada a seguire delle regole corrette, fare prevenzione significa dare indicazioni ai cittadini di come si devono comportare in caso di una catastrofe naturale. Tutto questo guida la nostra attività e tutto questo lo facciamo cercando di associare la nostra competenza che riguarda il campo assicurativo con la competenza di soggetti importanti che operano nel settore della salute, che operano come operatori di polizia, carabinieri, che operano nell'ambito della prevenzione dei sismi come il CNR o il centro di vulcanologia. Questa è la nostra ottica, questo è il nostro modello, questo modello ha funzionato molto nella sicurezza stradale, siamo convinti che possa funzionare, anche nelle altre attività con cui ci stiamo cimentando da circa un anno e mezzo. Grazie.